Che cos'è l'acidosi metabolica ipercloremica? L'acidosi metabolica ipercloremica è una diminuzione del livello di acidità all'interno del corpo, o livello del pH, che può portare a gravi complicazioni se non viene corretta. Campioni di liquidi dal paziente rivelano una maggiore concentrazione di sodio nel plasma, insieme a una goccia nel tampone bicarbonato che normalmente mantiene il pH in un intervallo di sicurezza. La differenza tra anioni caricati negativamente e cationi carichi positivamente, nota come gap anionico, è normale nei pazienti con acidosi metabolica ipercloremica. Tutti questi segni diagnostici possono aiutare un medico a identificare la condizione e iniziare a esplorare le possibili cause. Questa situazione può presentarsi in un paziente per una serie di motivi. Uno può essere la perdita di bicarbonato attraverso il tubo digerente. Uno squilibrio di liquidi, in cui il paziente perde rapidamente liquidi o riceve un'infusione di liquidi non adeguatamente bilanciato, può anche causare l'acidosi metabolica ipercloremica. I pazienti con insufficienza renale e diabete severo possono anche sviluppare l'acidosi come potenziale complicazione. In ambito ospedaliero, gli squilibri di pH possono essere una preoccupazione costante. I pazienti che sono ricoverati in ospedale per lunghi periodi di tempo, specialmente in terapia intensiva, possono essere più inclini a sviluppare complicazioni come questa. Gli infermieri possono controllarli da vicino per assicurarsi che ricevano liquidi appropriati e controllare il loro siero del sangue per i segni che l'acidosi o la condizione opposta, l'alcalosi, si sta sviluppando. Può essere difficile mantenere stabile un paziente gravemente malato perché i sistemi del corpo potrebbero iniziare a spegnersi. I pazienti con un pH basso nel siero e nei tessuti del corpo possono manifestare sintomi come mal di testa, dolori al petto e nausea. Può essere difficile identificare l'acidosi dai soli sintomi perché possono essere associati a così tante altre condizioni mediche. Le analisi del sangue possono rivelare un pH normale nel plasma del paziente e fornire anche informazioni sugli aspetti specifici dell'acidosi. Se il gap anionico è normale, ad esempio, il paziente ha un'acidosi metabolica ipercloremica, in contrasto con altre forme di acidosi in cui può essere elevata. Il trattamento può iniziare il più presto possibile per diminuire l'acidità e prevenire complicazioni gravi come il coma e danni al cuore. Quando il paziente è stabilizzato, i test possono continuare a scoprire perché il paziente ha sviluppato l'acidosi metabolica ipercloremica. Questo test è importante, in quanto consente ai medici di prendere provvedimenti per prevenire il ripetersi dell'episodio. Un caso di acidosi metabolica ipercloremica può rivelare un problema medico di base o può illustrare che una condizione di salute cronica è scarsamente controllata.